Al momento, a causa del vento e della neve, sono sospese le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino del 24 gennaio scorso. Da domani, tempo permettendo, i soccoritori torneranno in quota anche con l'eventuale utilizzo del georadar. Dei quattro escursionisti non si hanno più notizie. Da oltre due settimane, i giovani fidanzati Gianmarco Degni e Valeria Mella, 26-25 anni, risultano dispersi sul Monte Velino insieme al commerciante Tonino durante 1956 e l'ingegnere 31enne Gian Mauro Frabotta. A causa del maltempo, infatti, l'elicottero che oggi si è alzato in volo non è riuscito ad atterrare a Valle Mai e Lama, a 1800 metri, la zona interessata dalle tre valanghe dove si trovavano i quattro amici uniti dall'amore per la montagna. Domani e dopodomani, se le condizioni meteo, come sembra, miglioreranno, i soccoritori riprenderanno le attività sia di monitoraggio che di bonifica della zona. Bisogna preservare naturalmente l'incolumità degli stessi. Sarà nuovamente utilizzato il georadar messo a disposizione della protezione civile gratuitamente da un'azienda di Milano. La perecchiatura in questione viene utilizzata per scandagliare le profondità marine ed è la prima volta che la si usa nelle ricerche da valanga. Nel frattempo si sta valutando la possibilità di prendere un nuovo battipista, la volontà di tutte le forze in campo e quella di andare avanti, soprattutto per dare risposte ai familiari dei dispersi e alla loro angosciante attesa. Ieri, in omaggio all'amore tra i due fidanzati, insieme da sette anni, parenti e amici di Gianmarco Degni e Valeria Mella, hanno preparato uno strescione con la scritta Buon San Valentino e due cuori rossi con le iniziali dei loro nomi. Lo strescione, che appare anche ad Avezzano, è stato appeso alla reta del campo sportivo di forme, diventato la centrale di coordinamento delle ricerche. Buon San Valentino e Valeria Mella,